Perché c'è questo gioco sul quale un po' ho riflettuto, indipendentemente, tra paesaggio e ambiente, perché sono due cose diverse, anche se tendono ad essere così identificate. Viene da paese, no? Ovviamente è paesaggio, però con questa apertura allo sguardo, che è sempre uno sguardo soggettivo, prima lo sguardo del pittore, quindi c'è il soggetto, insomma nel paesaggio c'è il soggetto, quindi è molto moderno, fa parte della nostra tradizione ed è cambiato nei secoli, dal 600 diciamo ad oggi. L'ambiente è un'altra cosa, l'ambiente è l'aria in cui viviamo. Il respiro. La parola ambiente viene proprio, era prima aggettivale, era un aggettivo, un participio presente, cioè viene introdotto da Galileo parlando di aria ambiente, proprio aria ambiente, cioè l'aria nella quale si vive.